Io posso soltanto commentare la situazione che vediamo ora nel porto di Catania. C'è questa nave della Guardia Costiera Italiana che sta sbarcando 900 persone e anche purtroppo due salme. Persone che sono state soccorse al largo della Libia lunedì, mentre l'Aquarius era in stand-by a qualche miglia nautiche dalle coste maltesi, dalle coste italiane, aspettando istruzioni per far sbarcare 629 persone soccorse sabato sera in condizioni drammatiche. E quindi c'è stato questo stand-by che ha impedito all'Aquarius di portare le persone che aveva a bordo in un porto sicuro in tempo per poi tornare nella zona di Search and Rescue dove sappiamo che continuano le partenze, continuano i drammi e ancora ieri abbiamo avuto notizia di un naufragio nel quale sono morte almeno 12 persone di cui i corpi sono stati ritrovati e può essere che il bilancio di questo nuovo naufragio sia ancora più pesante. E quindi mentre l'Aquarius è stato fatto aspettare, mentre ci sono state tutte queste polemiche, tutte queste ore di stand-by, le stragi e i naufragi si sono continuati al largo della Libia, nel Mediterraneo centrale e quindi noi ne appelliamo oggi all'Europa di mettere questa questione del soccorso in mare come priorità nel suo agenda politico. Tutti i paesi dell'Europa, dalla Francia all'Italia, alla Spagna, ma anche tutti gli altri paesi, devono assolutamente sedersi e cercare una soluzione durativa sul lungo termine a questa crisi umanitaria che si sta svolgendo alle porte dell'Europa. Noi siamo un ONG di soccorso in mare. L'ONG SOS Mediterranea è stata creata dopo che l'operazione Mare Nostrum, che era un'iniziativa italiana dopo le stragi e i naufragi terribili di Lampedusa nel 2013, dopo i quali tutti i leader europei, tutti i leader del mondo hanno detto mai più stragi del genere. Questa operazione Mare Nostrum di ricerca e soccorso in mare è stata silurata poi dalle autorità europee e quindi si sono create queste ONG di soccorso in mare, tra le quali SOS Mediterranea. Noi siamo un'iniziativa della società civile. La società civile europea che dice no, non si possono lasciare le persone a negare alle porte dell'Europa. Sì, bisogna assolutamente andare ad aiutarli e portarli in un posto sicuro. Perché non è che non ci sono navi di ONG che non ci sono partenze. Le partenze continuano, si vede anche nei ultimi giorni, le persone continuano a fuggire dalla Libia. Quindi quando poi verrà attuato un dispositivo di soccorso adeguato, richiesto e chiesto insistentemente da SOS Mediterranea e dall'inizio della nostra missione, quando verranno trovate soluzioni per le persone che sono bloccate in Libia, che sono trattenute in condizioni disumane. Allora sì, speriamo che un giorno non ci sarà più bisogno delle ONG, dell'aiuto umanitario nel Mar Mediterraneo, ma oggi c'è bisogno più che mai di una presenza umanitaria perché non c'è questo dispositivo di soccorso nel Mediterraneo centrale. Noi soccorriamo persone e poi le proteggiamo. La priorità del personale a bordo dell'Aquarius è la protezione delle persone e la loro sicurezza. E quindi non è mai stato rifiutato nessun tipo di aiuto. Anzi, noi abbiamo aspettato tutte le istruzioni necessarie per poi procedere alla soluzione migliore per portare queste persone in sicurezza. Tutte le ore di attesa, tutto questo periodo di stand-by è stato anche motivato dal fatto che bisognava accertarsi delle condizioni di sicurezza a bordo della nave per le persone che sono state, che sono vulnerabili, persone, alcune ferite, persone che sono anche cadute in acqua in condizioni terribili sabato sera durante il soccorso. E quindi l'Aquarius ha sempre rispettato e si è sempre conformato alle istruzioni che gli sono state date in queste ultime ore. Siamo un'organizzazione di soccorso in mare e quindi dopo lo sbarco di queste persone torneremo nella zona SAR, al largo della Libia, per continuare questa missione vitale, per andare a soccorrere persone. Ricordo che è un obbligo legale e per noi è anche un obbligo morale perché questo corrisponde ai valori fondamentali di noi cittadini europei di rispetto dei diritti umani, solidarietà e rispetto della vita umana. E quindi la questione è, sarà sostenibile per le persone che abbiamo soccorso affrontare questo tipo di viaggi. Noi dove ci diranno di portare le persone le porteremo. Basta che sia un porto sicuro, un posto dove i diritti di queste persone saranno rispettati, dove queste persone che sono vulnerabili, extravulnerabili, perché hanno attraversato un lungo viaggio nel Sahara, nel deserto, ma anche mesi, settimane di detenzione in centri disumani in Libia. E quindi queste persone devono poi trovare un luogo sicuro e trovare un posto dove i loro diritti e la loro sopravvivenza verrà garantita. E questa è la nostra unica preoccupazione. Ed è anche per questa missione che i cittadini europei ci finanziano e ci aiutano e ci sopportano. E infatti in queste ultime ore abbiamo visto anche una grande mobilitazione della società civile che ci sostiene in questa missione.